La perla erotica. Si parla di Eros con la preziosa perla. Ben ritrovati, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di R.V.L. La Radio. Come state? Vi siete innamorati? Oggi vorrei parlarvi di un poema d'amore a cui ho dedicato le puntate di questo mese del mio canale YouTube. Mi riferisco al Cantico dei Cantici. Lo conoscete? Il Cantico dei Cantici è un testo contenuto nella Bibbia ebraica e cristiana. Composto verso il IV secolo a.C., è uno degli ultimi testi accolti nel canone della Bibbia, circa un secolo dopo la nascita di Cristo. È composto da otto capitoli contenenti poemi d'amore in forma dialogica tra un uomo e una donna. Che cosa può dire a noi più di duemila anni dopo? Sicuramente viene apprezzato dai cultori della bellezza, perché in poche altre letterature si viene così travolti dalla rincorsa del mistero dell'amore. Il Cantico è un dialogo d'amore continuo che esprime un vehemente desiderio di possesso in un luminoso contesto orientale, intriso dei colori, odori e sapori della terra. L'amore umano conosce l'assenza, la paura, il silenzio, la solitudine. Infatti, nel Cantico dei Cantici ci sono due scene notturne, piene di tensione, in cui l'uomo e la donna sono lontani e si cercano disperatamente senza ritrovarsi. Ma la meta è una sola. Forte come la morte è l'amore. Il poeta sacro è certo che l'amore debba prevalere. Questo poema distrugge tutte le ipocrisie, perché chi ama vede la natura, il corpo e i sentimenti con occhi diversi, come realmente sono, ovvero splendenti. A parte le diverse interpretazioni teologiche, l'autore del Cantico sa bene cosa significhi l'amore reale, corposo, carico di Eros. L'infinito e l'eterno, a cui portano la tenerezza dei sentimenti e la pienezza dell'amore, non sarebbero trapelati senza il racconto del corpo stupendo della donna e di quello vigoroso dell'uomo. A me piace pensare che in questo libro, Dio, parli il linguaggio degli innamorati. Sperando di avervi fatto venire voglia di conoscere questa poesia sublime, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi invito a cercare i racconti di Perla, Perla rara, su YouTube. Un bacio a tutte e a tutti. Perla erotica è anche su Instagram. Cerca la preziosa perla.